Argille pure, che non hanno ancora espresso il loro potenziale, sono plasmate dalla mano dell'uomo, che dona loro funzione e scopo. Le tinte naturali della terra arsa dal sole si amalgamano. Avvolgono con naturalezza i pavimenti. Grazie a tutti. Ammantano di una luce calda i rivestimenti. La combinazione degli elementi ci regala una materia estremamente naturale, orgogliosa della sua unicità. Ray Clay racchiude al suo interno un ritorno alle origini, all'essenza della ceramica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.